Un posto al sole, spoiler al 2 febbraio, Riccardo incontra una vecchia conoscenza a Milano. Clovi è andato a una conferenza e ha incontrato un conoscente. La storia non spiega nel dettaglio chi sia. Riccardo ritroverà i suoi vecchi amici nelle puntate di Un posto al sole dal 29 gennaio al 2 febbraio. L'anteprima non rivela esattamente chi sia quella persona, ma visto che anche lei è medico e si conoscono ad un convegno a Milano. Intanto Nunzio si sente sempre più solo e comincia a provare amore per Rossella. Molto probabilmente si tratta della sua ex moglie. È giunto il momento di prendere una decisione importante a casa Ferri e, su sollecitazione di Marina. Roberto decide di iscrivere Tommaso all'asilo per non trascorrere del tempo con Aida. Intanto Clara attraversa un periodo delicato a causa dell'imminente sfratto, che la avvicina ad Alberto. Alla fine, Giulia finisce per essere seriamente aggredita nel centro di ascolto. Nunzio è solo e innamorato di Rossella inizia una settimana molto intensa per i protagonisti di Palazzo Paiadini. In primo piano c'è Riccardo, che dovrebbe volare a Milano per una conferenza medica. Clovi finisce per incontrare una vecchia conoscenza. Chi intendi? Sebbene la trama non fornisca dettagli, potrebbe essere la sua ex moglie poiché era anche sua collega. Nel frattempo, a Napoli, Rossella fa i preparativi per il suo matrimonio con Riccardo, e anche Nunzio lascia l'ospedale. Camarota non riuscirà più a smettere di pensare a Rossella, e si sentirà ancora più solo. Giulia è presa di mira dai criminali Filippo è talmente sconvolto dalle parole di Diego contro il padre e Marina che la notizia arriva anche a casa di Ferri. Quest'ultima, nel frattempo, pensa di convincere il marito a mandare Tommaso all'asilo affinché Aida non trascorra troppo tempo con il figlio. Nel frattempo Giulia cerca di aiutare Rosa e Clara a una manifestazione per fermare gli sfratti. Le cose però non vanno affatto come previsto e il centro di ascolto viene attaccato da minacce. Il signor Poggi inizia a temere che qualcuno sia direttamente arrabbiato con lui, ma Alberto approfitta di questo momento di vulnerabilità e si avvicina a Clara. Inoltre, quest'ultimo riceve una telefonata ed è costretto a fare i conti con le sue emozioni. Ci sono ancora opzioni per Clara e Alberto? Riusciranno Alberto e Clara a tornare insieme? La trama non specifica chi chiamerà la madre di Federico, ma sarà una chiamata importante. Clara deve quindi valutare davvero le sue emozioni più nascoste e non può escludere la possibilità che la persona dall'altra parte del telefono sia Edoardo. L'uomo è in prigione e potrebbe dire a Clara di pensare alla propria vita e di non aspettarlo. Quello che è certo è che Alberto non si arrenderà e probabilmente affronterà ancora una volta la sua ex compagna, che non ha mai smesso di amarlo. I sentimenti che legavano Clara e Palladini erano così forti che la donna cercò di allontanarsi da lui semplicemente perché era così disgustata dal suo atteggiamento. La speranza di un cambiamento riporta Clara tra le braccia del padre di suo figlio.